Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un caso con denti fissi, sistema bocca bionica, giovane paziente che aveva dei gravi problemi a livello di masticazione, denti e radici che stavano venendo via, aveva già fatto dei lavori in passato, ma non si era fermata la parodontite, aveva parecchie capsule, come puoi vedere su radici che erano in espulsione. Abbiamo dovuto procedere qua per una bonifica completa di tutta la dentatura, eseguita la chirurgia, questo è il risultato già al giorno dell'intervento. Denti completi da parte a parte su sei impianti dentali nell'arcata sopra, sotto siamo riusciti a mantenere alcune radici, vista la giovanità della paziente. Nel grafico che vedi qua, vedi come gli impianti ptericoideici permettono di evitare i seni macellari. Su di questi abbiamo poi avvitato le due arcate provvisorie, con cui è stata la paziente circa sei mesi. Quella che vedi sulla sinistra è l'attacca tridimensionale della paziente, come è arrivata da noi, mancava praticamente mezza arcata nella parte superiore, c'erano ancora delle radici in basso, di cui però gli incisivi stavano venendo via, sopra invece era già perduto tutto. Sul lato destro vedi gli impianti dentali come sono stati inseriti in mandibola e anche in mascella superiore. Abbiamo eseguito una proiezione di quello che sarebbe stato il design desiderato dalla paziente e a quel punto abbiamo eseguito delle prove dei mock-up in plastica. Con queste prove abbiamo stabilito quelle che erano le posizioni dei denti, dove sarebbero dovuti essere posizionati in maniera corretta e successivamente abbiamo creato tutti i nuovi denti definitivi. Bianchissimi, la paziente aveva di per sé una carnagione molto chiara e per ottenere un ottimo match tra le labbra abbastanza grosse e la carnagione chiara abbiamo optato per dei denti grandi e molto bianchi, molto chiari. Questa è linea superior con i denti in zirconio e questo è il risultato iperrealistico che abbiamo ottenuto. Spero ti sia piaciuto questo caso di riabilitazione completa con la linea superior, il sistema bocca bionica che ha permesso a questa giovane donna di poter riavere la fiducia in se stessa e potersi rapportare con le persone come un tempo.